Buonasera da Monza, dove sta per iniziare la settima giornata di campionato Monza-Roma. Coné quasi zona tiro, Coné, il tiro di Coné, il palo poi da Offbic, fuori gioco. Bianco il crostagliato dentro, attenzione in area Maldini, il tiro svilare! Mamma mia che parata di svilare ragazzi! Coné si accentra Cristante dentro per Pellegrini, buona, Pellegrini! Fuori! Pellegrini in un fazzoletto, gioca la Roma, finisce a terra Pellegrini, palla con il tiro! La deviazione di Pizzignacco, calcio d'angolo. Sta servendo sull'Egristante in bucata, Domvic sponda Pellegrini, la parata di Pizzignacco. Ora sull'Egristante può andare, può partire dentro per Domvic che sta per entrare in area, Domvic, alto! Pizzignacco, Cristante all'altezza sempre della meta a campo, Cristante in avanti verso Domvic, se ne va Izzo! Domvic, Domvic, in trenare ancora, Domvic, 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 ancora Domvic! Gran gol questa volta, l'ha fatto! Maldini al limite, finta il tiro, appoggio sul centro-sinistra, cross-basso, svilarla, tocca, motagol! Traguarda in mezzo, il pallone a rimorchio per Conezzoradiro, 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 Conezzoradiro! Mezzaleschi, il cross in mezzo, questo era buono, anticipato, Baldazzi che finisce a terra, attenzione! Si continua a giocare, ma qui c'era il fallo, eh! Roma di testa Cristante, non c'è più tempo, Fischel, signor Lapena finisce qui, Monza 1, Roma 1! Grazie! Grazie a tutti.